Sì, come sempre, è di che vi parla? Siamo tornati in Minecraft insieme al mio amico, o benché, compagno di fazione, Matteo Bertoni. Ciao ragazzi! Allora, questo è il server Electroly Craft, dove partirà più presto la nuova serie Minecraft Multi Electro Episodio. L'episodio credo che uscirà il 19.06.2013, adesso vedo come potremo caricarle e penso faremo come avulente, però non sono molto sicuro, non siamo molto sicuri. Ora vedremo, io attesta. Ora vedremo. Con questo... Vedrete quando caricheremo il primo video. Questa era solo l'introduzione del nuovo server, godetevi la serie, commentate, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale di Matteo e dite soprattutto se questa serie vi può gustare. Ok, con questo è tutto, saluto a Matteo, ciao raga, grazie a tutti, al prossimo video, ciao!